Lorenzo. E quant'anni ha? Ottanta. Ma come si sente di avere ottanta anni? Mi sento un po' pesante. Un po' pesante? Un po' pesante. Allora, si è pentito? Eh, ho fatto tanti sbagli. Quali sbagli? Sbagli del matrimonio, sbagli di altre cose, insomma. In generale ho fatto tanti sbagli. Ok, se lei ha un messaggio di domandare a tutte le nostre generazioni, quale il messaggio sarebbe? Eh, quale il messaggio? Di avere un po' di fortuna, insomma. Di avere un po' di fortuna. Tu sei brasiliano? Alessandro. Quanti anni ha? Cinquantacinque e passa. Ok, ma come si sente di avere cinquantasei anni? Io mi sento sempre il bambino, perché sono stato l'ultimo della famiglia a pescare sempre coppa. Mi sento sempre il bambino, purtroppo. Ma di cosa ti penti di più, il passato? La vita. Un dottore di valore mi ha salvato la vita in America. Jerry Jeff. Ok. C'è un messaggio? Viva la vita, viva l'amore. Vive la vita, viva l'amore.